buona domenica buongiorno amichi amici buona domenica oggi fascetta peluciosa gialla raggiante e super super allegra come sono anche contenta e allegra io soprattutto di sabato e domenica sapete che sono molto contenta quando arriva il fine settimana l'amore è gentile e paziente questo bellissimo pensiero è stata mandata da una di voi quindi vi ringrazio tantissimo tra l'altro è un pensiero che mi piace e che condivido al 100% perché è proprio vero l'amore è gentile e paziente la gentilezza e la pazienza sono super super importanti ed è proprio questo che devo dire ci conquista al 100% la gentilezza e la pazienza che le persone hanno verso di noi ma anche gentilezza e pazienza verso i nostri amici a quattro zampe un po' in generale dimostra l'amore perché cioè vuol dire no secondo me che una persona che è gentile che è gentile e paziente sia a 360 gradi ma soprattutto ne fa un mood no un modo di essere e chi veramente ci ama si ci capisce ma tanta pazienza nei nostri confronti la pazienza di ascoltarci la pazienza anche di asciugare le nostre lacrime e di porgerci una spalla su cui appoggiarci nei momenti magari quelli un pochino più bui più tristi più cupi e quindi super super top questa frase questo pensiero gentile e molto molto amorevole secondo me e come sempre geni pini brufolini e gli occhiaie da pandina allora oggi abbiamo la palette di correttori di chicco e anche un fondotinta per sicurezza vediamo se ci servirà oppure no se viene già un bell'effetto solo con la palette di correttori non mettiamo il fondotinta ma vediamo un attimo prima di tutto abbiamo applicato il correttore verde perché oggi ho voluto sperimentare e adesso facciamo un mix con l'altra beauty blender color albicocca applichiamo anche un po' di correttore giallino e devo dire che è molto meglio l'effetto ora copriamo mimetizziamo i geni pini brufolini con un po' di correttore verde oggi mi vedevo le occhiaie particolarmente rossastre e quindi ho pensato di mettere prima un po' di correttore verde e devo dire che l'effetto mettendo una puntina di pesca sopra non è niente male guardate abbiamo messo un po' di giallino chiaro chiaro adesso metto un po' di viola nella di lilla nella zona del baffetto perché è un po' spento olivastra lilla carnagione un po' di più e qua mettiamo questo bel pesca acceso e devo dire che abbiamo mimetizzato abbastanza bene sia i geni pini brufolini che le occhiaie da pandina fatemi sapere cosa ne pensate di questa palette di correttori vi piace l'effetto che hanno su di me ora fissiamo il correttore con appena appena poca poca cipria la BB powder fix me cipria fissativa effetto opacizzante di Bella Oggi e l'effetto è molto carino come blush oggi utilizziamo lo Sweet Meringue è un blush profumato di Pupa è a forma di meringa ed è super super profumato molto molto carino e giocoso l'illuminante invece è di She Glam ed è della collezione degli alieni è il Lunar Glow Highlighter veramente bellissimo molto luminoso è un po' con i riflessi verdini violacei però è veramente bello un effetto wow al 100% a pruvede mi piace tanto il prodotto labbra che utilizziamo oggi è di Lano Lips e oggi proviamo la profumazione al cocco è il numero 101 ma anche l'altro era numero 101 è un multibalm al profumo di cocco e lo utilizziamo in combo con il volume boost di Bella Oggi quindi oggi super combo super idratante ma strega comanda color palette la palette degli alieni di She Glam la Cosmic Come Up ce la posso fare non riuscivo a dirlo è super carina mi fa un sacco di allegria e anche un pochino di paura perché ci sono tutti gli alieni qua in copertina della palette oggi utilizziamo questo verde meraviglioso è un verde incredibilmente luminoso che mi trasmette tantissima allegria mi piace veramente tanto lo applichiamo senza scotch di carta senza primer a tutta palpebra e lo sfumiamo con lo stesso pennellino senza utilizzare altri pennelli per vedere anche se si riesce a lavorare bene senza utilizzare anche troppa strumentazione diciamo così troppi pennelli e soprattutto senza avere il primer perché non tutti magari in casa hanno lo scotch di carta e il primer oppure tanti pennelli vedete semplicissimo l'abbiamo applicato al volo con un unico pennello per ombretto questo è molto carino questo pennello è di revolution della collezione del mago di odds molto carino e l'abbiamo applicato veramente con tre pennellate molto semplice e veloce ora con un piccolo pennellino applichiamo semplicemente nell'angolo interno un po' di illuminante per creare il punto luce e l'effetto è molto bello secondo me il mascara che utilizziamo oggi è di essence ed è il I need a miracle e volumizza rinforza tantissimo le ciglia e devo dire che molte volte la mattina quando mi specchio penso che ci vuole un miracolo per far diventare la mia faccia diciamo un pochino più curata un pochino più anche allegra perché a volte quando mi vedo tantissime occhiaie mi viene da fare un po' il broncetto poi però già quando mi vedo più truccata divento più sorridente nelle labbra oggi applichiamo il put bomb spero che si chiami così di revolution ed è plumping è un lip gloss plumping con vitamina E è bellissimo mi piace tantissimo l'applicatore è molto ampio e super morbido e il profumo è buonissimo perché sa tantissimo secondo me di menta e di buono a me piace tanto come profumazione è molto carino l'effetto lo trovo veramente bello 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 il make up di oggi mi dà un sacco di allegria mi piace tanto fatemi sapere cosa ne pensate del make up di oggi io spero che vi piacerà la parola segreta di oggi è cosmic come è il nome di questa palette degli alieni mi raccomando è il nome è cosmic e un cuoricino verde oppure un alieno la navicella degli alieni sarebbe molto carina come emoji e fatemi sapere cosa ne pensate di questo make up io spero che vi piacerà e anche sono curiosa di sapere il vostro parere in merito a questa palette cosa ne pensate io la sto trovando molto molto bella mi piace tanto come sempre vi mando un bacio grande 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 ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti ciao amiche amici buona domenica a dopo fate le brave e i bravi